I primi manoscritti sul lavoro dei tegliai di Montetiferi salgono a 1527. Sapevo dei miei avi che avevano sempre fatto le teglie e quindi forse c'è stato un richiamo. Lavoravo in un supermercato, Maurizio era impiegato. Abbiamo deciso di lasciare baracche Purattini e venire su a imparare questo mestiere. Si inizia con l'andarsi a cercare l'argile, la stendiamo sul piazzale, la facciamo seccare, facciamo l'impasto e poi ci si mette lì e si costruiscono le teglie. Ogni teglie è diversa dall'altra, è un oggetto che è unico, un oggetto d'uso che dà soddisfazione e quindi se dà soddisfazione la teglie sono soddisfatta anch'io. Mi ha dato la vita. Io sono Rosella e faccio la tegliaia. Noi siamo l'Emilia Romagna e questa è la nostra storia.